L'acqua del Gran Sasso è a rischio. Questo in estrema sintesi quanto denuncia Augusto De Santis del forum H2O, intervenuto ieri a Peramo, presso la sede di Teramo Nostra, nell'incontro pubblico dal titolo Gran Sasso, a che punto è il progetto Corsini da 135 milioni di euro da realizzare entro il 2025 nelle gallerie? De Santis ha evidenziato numerose criticità in ordine alla sicurezza della risorsa idrica. In particolare ha sottolineato che gli aquilani devono sapere che berranno acqua di lago potabilizzata. La questione del Gran Sasso sta diventando sempre più grave. Bisogna da un lato sicuramente fare dei lavori di messa in sicurezza dell'acquifero e anche del sistema autostradale. Però dall'altro lato non si può continuare a pensare di fare nuovi buchi nel Gran Sasso in un sistema molto vulnerabile, un parco nazionale, dove ogni volta che si tocca qualcosa poi c'è un impatto anche sull'acqua potabile. Quindi i lavori dovranno essere fatti in una maniera molto attenta per l'ambiente. Certo stupisce, anche sconcerta, l'approccio usato sia dal commissario Caputi che dall'altro commissario Corsini nel pensare invece interventi molto pesanti che vanno da nuove perforazioni, nuovi drenaggi, nuove captazioni che sicuramente sono insostenibili. Poi dall'altro lato vediamo che il Presidente della Regione dice che l'acqua del Gran Sasso è la migliore che c'è in Italia, poi però si pensano nuovi potabilizzatori sia per fare i lavori, e questo va bene perché durante i lavori si possono avere effetti negativi sulla potabilità, però soprattutto per l'aquilano dovrebbe interessare il fatto che hanno pensato di realizzare un potabilizzatore a Campotosso che dovrà dare per sempre l'acqua all'aquila, 200 litri secondo. Quindi gli aquilani devono sapere che invece di bere acqua pregiata dal Gran Sasso, berranno in buona parte acqua di lago potabilizzata. La messa in sicurezza non può prescindere poi dalla questione dei laboratori di fisica nucleare. Ci sono ancora esperimenti, uno in particolare, esperimenti con sostanze pericolose, mille tonnellate di nafta, molto grave perché un eventuale incidente con mille tonnellate di nafta all'interno, nel cuore della montagna, con tutta quell'acqua, ovviamente significherebbe non avere più l'acqua a disposizione per 500.000 persone, sia all'aquila che a terra.